Bella ragazzi e oggi siamo qui con un nuovo video ed è un video su Clash Royale Ah ok Su Clash Royale, si Oggi siamo qui per fare i bauli della corona Allora andiamo a vedere se dobbiamo donare qualcosa Non dobbiamo donare niente al nostro clan Che ragazzi è pieno Però se c'è qualcuno di voi che ha tanti tanti trofei tipo più di 1500 Me lo scrivesse qua sotto e mi scrivesse il nick E poi chiedesse di entrare nel clan che lo accetto Io non ho chiesto niente Che carte mi ha chiesto mo? Non so io non so Allora oggi andiamo a provare un deck nuovo Dato che poco fa ho sbloccato lo specchio E lo specchio come sapete è molto figo Perché sai cosa fa lo specchio? No Ci si specchia Poglioni No comunque lo specchio serve per copiare l'ultima carta che tu hai buttato A costo di un elisir in più di quanto costa realmente Quindi se io l'ultima carta che ho buttato è la regina, la strega Posso ributtarla con lo specchio al costo di 6 elisir Però posso buttare due di seguito È molto figa questa cosa Ho provato questo deck e ci ho messo Sgherri Goblin Moschettiere Barbari Poi qua mi sa che ho sbagliato perché ci devo mettere i goblin No Così così Ok Andiamo a provare questo cosa Costo medio 4 del elisir Quindi non è tantissimo Posso cliccare dove mi dici Almeno sono partecipato No no È una cosa troppo difficile Allora Andiamo con la prima battaglia E proviamo questo deck Regano Non ho ancora provato E vediamo se va bene insieme È il macito pro Come prima cosa che cosa gli buttiamo qua Io direi Barbari Barbari Possiamo buttare pure i doppi barbari eh Volendo Però vai A stecca Eh no Un altro barbari li buttiamo qua Bam Perché quello c'ha un porco Qua dietro gli buttiamo i goblin Come la vedi Che te sta rompendo quella Oh mio di frecce Ciao Faccio tutti i fori Bam Allora Qua gli buttiamo Sì i goblin Buono buono Guarda i barbari mu che danno che fanno Ma regà è buono sto deck eh Sbam 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 Ah ma buttati i barbari pure lui Quali barbari sono più forti I miei perché dietro c'hanno pure i goblin Cioè buono Questo qui non ci arriva nemmeno Vabbè lui non ci ha fatto nessun danno Qualcosa ci ha fatto Oh cazzo Il porco Il porco Il porco Il log rider Allora A posto Li buttiamo questo Questi sono morti La regina adesso va avanti De Cristo Io non so se buttare Arte sgherri Ma chi è regina? Ma strega infatti Moschettiere Ok dovremmo fare gli bait animo eh No cazzo Questa non ci voleva Oh che carino È il cucciolo di drago Attenzione Vediamo Questo ci botta i goblin Noi però adesso gli andiamo a fare danni Forse prendiamo la torre La prendiamo È nostra È nostra È nostra È nostra È nostra È nostra Oddio ma quella è Tristana Dai torre Boom La botta Allora adesso però noi siamo pieni Quindi buttiamo un gigante Proprio da lontanissimo Nel mondo Che palle sto grider Però Vabbè è esploso Allora io direi Dei buttare sgherri Qua Così Sbam I barbari vanno tranquilli sul centro Ragazzi stiamo a fare malissimo Frecce pronte no Non mi servono Serve un bel moschettiere qui Ma scusa un moschettiere perché spara da lontano Un bel moschettiere Spara da lontano Spara Vai Butta giusto drago Boom Dai che si per la torre Dai che si la pia Oh mio dio ragazzi Sbam Oh mio dio Lo stiamo a fa' nero Oddio questa non ci volevo No buono Buono così Logrider di merda Olè Ancora goblin Non gli fa più a cazzo Mi faccio più a niente no Sbam Vai vai Sgherri 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 Siamo devastato proprio Lo stiamo devastando Ragazzi Ammazza quanto è forte sto deck Che poi lo specchio è stato tipo una volta No lo so duorte Ah questa non ci voleva Ah come gioca del Piero Attenzione Moschettiera E frecce E frecce E' ma i frecce sui barbari Mi fanno niente Oh mio dio E' i barbari sono morti Questa non ci voleva Oh ma andò un gigante così Proprio Blocca tutto Ok Olgrider Che cazzo era quello Olgrider Quando lo lanci fa Olgrider Di là Dai non riuscimo Non riuscimo a fare tre corone Però va bene dai No peschi Va bene va bene Vai Facciamo caricare sempre fino alla fine Ragazzi mi raccomando è importante Ha caricato sempre tutta la barra Prima di buttarli Ok Ok lui è un coglione Perché adesso ha sprecato Ora gli ti mando proprio velocemente Fast Perché ha sprecato 5 lui Effetto Sgherri proprio li ha niente Lui adesso non c'ha più l'isir Quindi mando tutto insieme Ma dove lo vedi se non c'è Eh lo sai Cioè Ah ok Ti regoli la tua l'isir Ti regoli quanto lui ha buttato Il Lorde Sgherri vale 5 Porco 2 Che è il gigante Comunque non c'è voglio preso la torre Ma che aspettavo Va benissimo Guardate lì cazzo E' questa mappia la torre centrale Io adesso mando un anti-sgherri allora Guarda quanto gli elevano Guarda quanto gli elevano Va benissimo così Che carino che è il draghetto Eh no ho fatto una cazzata Ho fatto una cazzata Non dovevo mandare gli barbari Questo sbagliato Perché i barbari non attaccano il drago Perché vola E il drago attacca d'aria Quindi fa male Devo mandare Tipo il moschettiere Era meglio Comunque facciamo ricaricare Noi siamo in vantaggione Ragazzi siamo in una situazione Buona eh Non è male Adesso noi facciamo aspettare Se qua non fanno tanti danni Allora mandiamo un gigante Proprio così fast Dietro gli mandiamo la strega E siamo pronti con le frecce Perché lui ci manderà un'orda di qualcosa adesso No No ci manda proprio così Allora noi gli mandiamo la moschettiere La moschettiere La moschettiere è fantastico Mandiamo i goblin qua Per contrastare il gigante Vai così Dai che gli fa un malissimo Il gigante non supera manco la metà Abbiamo rotto la casa dei goblin Mandiamo gli sgherri qui E forse ci prendiamo la cosa Ce la prendiamo Ce la prendiamo la torre Vai Olè Easy Easy raga Easy 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 Ragazzi questo deck mi piace una cifra E ci andiamo ad aprire questo bollo della corona Siamo a 1371 trofei Ditemi cosa ne pensate di questo deck Aspetta Ditemi cosa ne pensate di questo deck E se c'hai dei miglioramenti a fare A me mi sembra abbastanza forte Che ne pensate voi Apri Vai andiamo ad aprire piano piano 158 che non fanno mai male Esatto Apri Clicca Ok Gemme Buono Del sud Poi c'è Barbari Sbarbari Non lo so Dimmi lo so Sono buoni Frecce Vai Qualche cosa rara Epica Dai Una cosa Una cosa epica Daccela Una Rara Moschettiere Ci ha dato quella rara Vabbè regà E' andato abbastanza bene Dai Il baule della corona L'abbiamo completato per oggi Raga spero che questo video vi sia piaciuto Se non vi è piaciuto Stai zicco No se vi è piaciuto Lasciamo 5 like E qua sotto Consigliatemi cosa ne pensate di questo deck E consigliatemi altri deck forti Che proverò Perché questo deck con lo specchio L'ho creato io Perché Avevo sbloccato lo specchio E ho detto Vabbè proviamo a crearlo così Proprio va raffazzonato E l'ho provato Però io ogni tanto Leggo anche i commenti Cioè Leggo anche i commenti vostri Che ci sono sotto E vedo anche i vostri deck Che mi consigliate Ogni tanto li provo Poi se mi piacciono Li faccio in un video Perciò consigliate qua sotto E ci becchiamo Nel prossimo video Bella Ciao